Ma al di là che il campionato è ancora lungo, un campionato che sta mettendo in mostra soprattutto la continuità di una squadra come il Napoli che meritatamente occupa quella posizione in classifica, ma poi soprattutto c'è alle spalle squadre come la Sandra Abate e come a Feldiebel che stanno trovando quella continuità di risultati attraverso il gioco. Questo è un campionato molto bello, credo questa è la mia seconda esperienza e rispetto all'anno scorso vedo formazioni molto più preparate e anche le squadre che sono fuori dalle posizioni playoff sono squadre che sono composte comunque da giocatori importanti. Tengo a precisare che l'operazione Crema è un'operazione già decisa da Comella con la proprietà e con la Vallo del Mister già da un mese e Crema sono sicuro che sarà un giocatore che risulterà determinante. Da mercoledì a mercoledì poi comincerà, ci saranno gli ottavi di Coppa Italia che ci vedranno qui alla palla del Mavro opposti alla squadra siciliana e giocheremo alle 16.30, giocheremo mercoledì alle 16.30 con ingresso gratuito e quindi questa è l'occasione anche per invitare i tifosi.